In Italia in questi giorni si stanno organizzando punti di accoglienza per i rifugiati dell'Ucraina. Nel Cilento, a Cicerale, per volontà dell'ex sindaco Gerardo Antelmo, già tre famiglie ucraine sono state accolte. L'ultima ieri, 9 marzo, accompagnata direttamente dal console ucraino in Italia, Maxim Kovalenko, Gerardo Antelmo ha fatto gli onori di casa insieme ad alcuni cittadini, alla truppe della RAI e il cronista del quotidiano La Città di Salerno. Adesso abbiamo da tanti rifugiati, ogni giorno ci sono da tanti il pullman della frontiera dell'Ucraina con i bambini, le donne ucraine che vengono qua. Abbiamo da tanto, tantissimo lavoro insieme, ma la regione di Campania è assolutamente pronta per prendere questo numero, tanto, dei rifugiati, ma anche chiediamo non aspettare che qualcuna persona, qualcuna struttura possa risolvere dei suoi problemi. Abbiamo da tantissimi, purtroppo, problemi, tutti siamo noi e perciò chiediamo a tutti i sindaci della regione di Campania di organizzare l'accoglienza per tutti i nostri minori, bambini, tutti. La pace, ha detto Gerardo Antelmo, si costruisce con l'accoglienza. Abbiamo il dovere di non voltarci dall'altra parte. Qui c'è una guerra che sta martoriando bambini, donne, uomini, tutti i cittadini ucrani che sono nostri fratelli. Ecco, la pace si costruisce con l'accoglienza e si costruisce con l'integrazione. E poi ho chiesto al console di verificare le condizioni affinché si possano portare anche qui a Cigerale bambini orfani di guerra per un affido temporaneo presso le famiglie che non aspettano altro. Ho tantissime richieste. Io credo nella pace, racconta Madlen, ma ho paura per i miei familiari che sono ancora lì e che rischiano ogni giorno la vita. Spero che la guerra finisca per ritornare nella mia terra. Secondo il console Kovalenko, per dare fine a questa guerra è indispensabile che tutti i paesi europei si coalizzino e affrontino con un'unica forza, l'armata russa. Il finale di questa storia è quando tutti i paesi europei, tutti assolutamente, possono presentare della Russia militare, Russia fascistica come per noi, che l'Europa è unica, democrazia e possono proteggere tutti i paesi europei, non importano che parte o non parte dell'Unione Europea e Nato, che tutti noi possiamo proteggere nel suo territorio, nel suo democrazia, nella nostra libertà, che è molto importante, che possiamo noi combattere insieme. Per prima cosa se dobbiamo bloccare l'aereo, il spazio dell'aereo dell'Ucraina o presentare per l'Ucraina e tutti gli armati necessari per bloccare questo spazio. Questa cosa prima, perché se non possiamo fare adesso, domani ci saranno non l'Ucraina, l'Aguvara in Ucraina, ma anche a Moldova, Polonia e Romania e poi Italia, Portogallo e Spagna. Grazie. Grazie. Grazie.